La pizza, cioè non so se... La pizza, parlo da Paragone, ragazzi. Perché il Paragone per Luigi, in concreto, per gli amici, è uno di noi davvero, ma davvero. Lui non se la tira, è così come lo vedete. Qua sarà, sarà, è così, ma se non vuoi. E la faccio in fornale. Però la vera arte è riuscire a... No, va bene, è facile. Mario, scusa, Mario. Un secondo, scusa. I quelli che raggiungono a Cedric. Sì, sì. Il senatore Paragone faccia anche quelle. Diti che la faccio io. Le fa Paragone. No, no, no. Dopo si gira, mette in forno e si gira. Gianluigi, c'è la gente che sta scrivendo in diretta quando è in forno la pizza al senatore. Ok. Guardate, in diretta, questo è un gesto simbolico per far capire che Gianluigi è con i ristoratori, i ristoratori sono con noi. Questa è la pizza in Talexit. Uno pensa, uno pensa che sia facile. Signore, il primo ufficiale, un applauso! coats, suo invisibilità è l'applauso. Questa è un simple goitive. Cop Philippino è un campionero non lo scusato. Ho不是 super sicuroSque non lo scusato? Una hatte la tua parte? P NAST? Guardate la parte? Guardate la parte! Guardate questo scusato? Stratugio? Grazie.